Siamo con il comitato promotore della raccolta firme per la sicurezza sulla strada Olmo-Lacugnano-Sanzisto. Com'è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è nata dopo i recenti fatti di cronaca, purtroppo c'è stato un incidente anche mortale. E da lì ci è venuta in mente di organizzare insieme alle associazioni di Lacugnano, la Chiocciola, la Toriscal e altre, di organizzare questa petizione. Perché questa petizione? Perché questa strada è nata 30 anni fa, quando la viabilità era molto bassa, il traffico era limitato. Invece è diventata una bretella, è diventato un raccordo molto importante che collega dall'ospedale Silvestrini ai nuovi centri commerciali Decathlon e quant'altro. E quindi è una strada insicura, senza marciapiedi, la velocità è elevatissima. E da lì siamo partiti con la raccolta delle firme. Una raccolta firme particolarmente sostenuta, oltre 900 firme in poco tempo, che poi avete presentato al comune, vi siete già confrontati con loro. Che è immerso? Allora, noi ci siamo visti il 20 di luglio con gli assessori al comune di Perugia, alle infrastrutture Otello Numerini e Luca Merli alla mobilità. E a seguito di sopralluoghi che avevamo fatto in maniera abbastanza circostanziata, abbiamo rappresentato la criticità di quattro punti particolarmente problematici di questa strada, che sono punti che stanno negli innesti con altre strade. Non sto qui a raccontare nel dettaglio quali sono, sicuramente quello più problematico è rappresentato dall'innesto della strada di Via Canova con la strada Olmo-Sansisto-Lacugnano, per il quale abbiamo proposto di costruire una rotonda, in quanto ci sono gli spazi per poterla realizzare e soprattutto di dare continuità ai marciapiedi, quindi alla percorrenza pedonale. C'è poi tutto il tema delle manutenzioni che va affrontato non in maniera occasionale e a seguito di questa protesta che i cittadini hanno intrapreso e che riguardano sia la manutenzione dell'asfalto, sia la manutenzione della vegetazione che soprattutto in prossimità degli incroci limita la visibilità. L'assessore si è dimostrato attento alle nostre richieste, ne è scaturita una proposta da parte del Comune di realizzare la rotatoria in prossimità dell'innesto con Via Antonio Canova, da inserire comunque nel prossimo piano triennale per le opere pubbliche e di realizzare anche tutta la parte dei marciapiedi che mancano sulla strada che se sono come realizzazione di entità economica superiore a una certa soia saranno anche essi inserite nel piano triennale delle opere pubbliche. Ci sono poi degli interventi immediati che l'assessore comunque ha detto che farà che riguardano la segnaletica orizzontale e verticale, quindi la manutenzione della segnaletica. Nell'ambito di questo incontro poi abbiamo posto anche un altro tema che dovremmo affrontare che è quello di istituire un tavolo di progettazione partecipata su tutta la mobilità pedonale dell'area sud-ovest di Perugia. L'appuntamento è tra tre mesi circa per monitorare l'avanzamento delle attività che il Comune ha promesso al Comitato di fare. Comunque dal Comune avete ottenuto anche una risposta, in qualche maniera un impegno importante? Direi di sì, dal incontro che è scaturito qualche giorno fa c'è un impegno preciso quantomeno a realizzare i punti più critici quanto è stato richiesto che è ritenuto ovviamente l'indispensabile, quindi noi non faremo altro che essere vigili anche nei prosiegui del tempo e l'appuntamento che si è stato dato tra tre mesi sicuramente lo sosterremo in virtù anche delle 900 e passa firme che abbiamo ottenuto. Io rappresento la Chiocciola e insieme a me c'è anche il rappresentante della società Toriscal che ovviamente insieme abbiamo sostenuto la petizione ottenendo degli ottimi risultati. La necessità c'è, l'esigenza c'è, è stata riconosciuta e a questo punto è necessario che il Comune si muova con efficacia ed efficienza. Stasera c'è già un primo incontro con la cittadinanza per raccontare quello che è successo. Noi abbiamo pensato fosse necessario fare una riunione dove abbiamo convocato tutti i cittadini soprattutto i firmatari della petizione perché vogliamo appunto renderli partecipi dello stato di avanzamento di questa petizione, dell'avvenuta consegna e di ciò che abbiamo trattato con l'assessore la scorsa settimana. E poi a breve, fra tre mesi avremo un nuovo incontro e poi riconvocheremo ancora tutta un'assemblea per rendere partecipi tutti i cittadini.